Buongiorno, buongiorno Regione, sono Zio Vito, scusate se ho fatto tardo oggi a fare video perché ho fatto la corsa alla stramacchia romana e poi a un certo punto ho trovato, non posso parlare forte perché è passata la mezzanotte e c'è Irina che dorme che è stanca che Zio Vito dopo che ha fatto la gara a 11 km di corsa praticamente Irina si è fatta trovare sotto la sponda ma si è attaccata mano ai piedi perché quella è stato un aso, ci piacciono queste cose attaccate per canne e quindi Zio Vito diciamo dopo la stramacchia ha pigliato in modo caro e si è menata stramana e insomma si è capito capisceci e quindi lei ora è stanca perché non ha arretto la forza di Zio Vito, non ha arretto questi ragazzi che mi ha assorto di Zio Vito, non ha arretto la forza di Zio Vito, non ha arretto la forza di Zio Vito, facetemi vedere se si dorme, Irina, amore, Irina, amore che fai dorme o sei morta? se si è morta dimmelo, risponde, si è morta, oh, Irina, sta dormendo, russa, anche se lei è rumena però la lingua è quella, è una lingua irina, vabbè comunque ci vediamo domande, vi racconto tutto fatto, diciamo della gara, dopo la post gara e finiamo, beh, buona notte a tutti quanti, allo vostro, cagliate il toast in casa vostra, anche di sera, amore preparate che venga, anche senza sponda tesoro, amo, russa, e le rumene che è russa, non ci mai capisci, si rumene perché è russa, ciao